Posso portare una mia testimonianza? Mentre facevo un esorcismo e c'era un sacerdote che lavora molto per seppellire i feti dei bambini abortiti, sia volontariamente che involontariamente, lui si trovava per caso a questo esorcismo. A un certo punto il demonio sotto esorcismo ha cominciato a dire è qui quella donna, è qui quella donna con tutti quegli esseri piccolini attorno a lei, quegli esseri piccolini, e ho detto io che cosa sono questi esseri piccolini? E alla fine abbiamo capito che erano i bambini abortiti, perché quando noi esseri umani compiamo un aborto, noi è come se chiudessimo una porta per il futuro.